Amici di Stato Codiviano, siamo sempre qui in diretta da Zamponeta, adesso è un momento importante, la procedizione di Gesù per questa giornata della passione. Grazie a tutti. 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 Elohi, Elohi, Neymar, Saba Ketani. Ecco, Chiavelia, adesso vediamo se vieni lì a farlo scendere dalla cruce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani consegni il tuo spirito. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.